Sono Francesco Perrini, sono il delegato del Rettore della Sostenibilità dell'Università Bocconi, dove dirigo un centro di ricerca sul Sustainability e ISG Lab. Mi fa piacere riflettere su una considerazione a livello di sostenibilità personale, ovvero quando io prendo il treno tipicamente vado con i miei mezzi sostenibili in stazione per andare a Roma da Milano, il treno ci mette circa tre ore, sono le tre ore più produttive della settimana perché mi concentro e recupero il mio tempo, con altri mezzi di trasporto sicuramente questo non sarei in grado di farlo, quindi c'è una sostenibilità a livello ambientale, sociale, ma anche una sostenibilità a livello personale come passeggero e non solo come studioso o ricercatore di questi temi sempre più importanti che vanno appunto dall'ambiente al sociale alla governance, quindi sotto il acronimo ISG. Mi piacerebbe poi utilizzare il treno non solo per le tratte per le quali faccio l'uso attualmente, come dicevo prima Roma, Torino, Venezia e così via, ma incominciare ad avere la possibilità di prendere anche il treno di notte per allungare, andare su tratte più sostenibili, raggiungibili oggi solo con altri mezzi.